Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. C'è la cronaca in apertura. Non ho mai creduto alle parole di Defanis quando diceva che per me avrebbe anche ucciso la moglie. Lo ha dichiarato al PM Vecchi nel corso del confronto a due che si è svolto oggi in procura a Lanciano. La segretaria Zingariello dell'ex assessore regionale alla cultura lo riferiscono gli avvocati della difesa. Arriva a piedi in procura a Lanciano con la famiglia, la moglie Rosanna e la figlia Valeria, l'ex assessore regionale alla cultura Luigi Defanis, accompagnato dagli avvocati Massimo Cirulli e Domenico Frattura. Provato e con la barba lunga, il dottor Defanis, seguito dalle telecamere e dai cronisti, ha salito le scale verso l'ufficio della PM Rosaria Vecchi, che lo ha interrogato in qualità di imputato in merito allo stralcio dell'inchiesta elvate sul presunto tentato omicidio nei confronti della moglie. Nel corso dell'interrogatorio, Defanis si è dichiarato innocente, ha riferito brevemente l'avvocato Cirulli alla stampa in attesa per ore nei corridoi del tribunale. E rispondendo alle domande dei giornalisti, il difensore ha aggiunto, parafrasando Marx, qui per fortuna la farsa non si è tramutata in tragedia. Allora, chi era Marx che diceva che a volte la tragedia si è mutata in farsa? Per fortuna qui la farsa non si è mutata in tragedia. Grazie. Dopo un'ora e mezza, il PM ha ascoltato la parte offesa a Rosanna Ragneri, che una decina di giorni fa, con una lettera aperta inviata ai media, aveva difeso il matrimonio trentennale con il marito, ribadendo la solidità della loro unione. Alle due del pomeriggio è stata la volta della ex segretaria, accompagnata dall'avvocato Umberto Del Re. Lucia Zingariello si è sottratta alle telecamere, prima entrando e poi uscendo da un ingresso secondario, coprendosi con una sciarpa da cui spuntano tuttavia i capelli, due mesi fa biondi e ora a tinti di scuro. Sta cercando di proteggere la sua privacy, ha detto illegale e parlando con i giornalisti, e di proteggere la figlia di otto anni. Secondo quanto riferito dagli avvocati, nel corso del confronto a due con l'ex assessore, durato a pochi minuti, la donna avrebbe dichiarato di non aver mai creduto alle parole di De Fanis, registrate nel corso di un colloquio tra amanti, quando le diceva che per amore suo sarebbe arrivato ad uccidere la moglie. Il tono era scherzoso, ha dichiarato al PM De Fanis, e la ex segretaria lo ha confermato. Si avvierebbe dunque all'archiviazione e allo stralcio fraintano delle inchieste elvate su presunte tangenti nel settore cultura della regione. L'ex assessore, decaduto anche dalla carica di consigliere regionale, è l'unico indagato ancora agli arresti domiciliari dal 12 novembre scorso. Il Tribunale del Riesame si pronuncerà il 6 febbraio. Una domanda oggi resta in evasa. Quale motivo avesse la segretaria di registrare il colloquio con l'amante? La pagina politica Lanciano e il sindaco Mario Pupillo oggi ha confermato tutti gli assessori della giunta azzerata due settimane fa. Per sé ha tenuto la delega allo sport e Pino Valente di Progetto Lanciano resta vice sindaco. Sindaco ha aggiustato tutto senza cambiare nulla. È precisato che qui oggi non si è fatto il gioco delle poltrone? Assolutamente sì. Io lo avevo detto già nel mese di dicembre, quando già nella maggioranza c'era qualche così malessere, come può succedere in qualsiasi attività politica, amministrativa, anche associativa. Ho convinto gli altri che questa è la squadra che è partita due anni fa e che può arrivare al termine del nostro mandato. Ho presentato un documento in cui ci sono scritte tutte le cose che questa giunta ha fatto e quindi non si può dire che questa giunta non ha fatto nulla. Do piena fiducia a loro. Questa è la maggioranza che i cittadini di Lanciano hanno mandato a governare questa città e io andrò fino in porto. Noi non abbiamo cambiato nulla, mentre invece spesso nelle passate amministrazioni si cambiava, qualcuno passava dalla minoranza alla maggioranza e si accordava tutto. Noi abbiamo fatto invece una cosa che non è solita, cioè abbiamo riconfermato, almeno io ho fatto questo, credo di aver avuto da parte di tutti la condivisione di questa scelta. I miei assessori hanno lavorato bene, hanno lavorato in un momento estremamente difficile in cui è facile criticare perché le opere materiali che poi i cittadini ti riconoscono non si possono fare. Nonostante questo apriremo un paio di cantieri importanti nei prossimi mesi. Era necessario azzerare la giunta? Sì, questo è un discorso che mi viene riproposto e dico che l'azzeramento non era una bocciatura della giunta, era un modo di dire fermiamoci, riflettiamo, vediamo che cosa dobbiamo fare perché io vi voglio portare a ragionare serenamente senza l'ansia da prestazione, che è proprio un'ansia positiva perché ognuno di noi vuole vedere realizzati i progetti, ma che poi certe volte può sfociare in un'irritazione, un eretismo e quindi anche dei comportamenti superficiali nelle valutazioni e nel diffondere alcune notizie o alcune valutazioni. Perché la decisione di distribuire alcune deleghe ai consiglieri comunali? Allora, l'avevo già detto questo due mesi fa, perché? Perché c'è tanto lavoro da fare, ci sono tantissime cose arretrate che noi dobbiamo risolvere, i consiglieri che spesso criticano gli assessori devono lavorare a fianco dell'assessore, collaborare, lavorare su dei progetti che noi abbiamo oggi scandito ognuno per ogni consigliere e nel mese di luglio noi faremo delle valutazioni per i tre obiettivi per ogni assessore e per l'obiettivo che un consigliere deve portare avanti per dare forza alla nostra azione. Faccio esempio i fondi europei, faccio esempio le innovazioni tecnologiche, la ricerca delle energie, il folklore, le tradizioni, le manifestazioni lancianesi che ogni consigliere andrà a curare per dare manforte all'assessore che lavora in condizioni disagiate. Consideriamo che Lanciano sta facendo due, l'amministrazione sta facendo dei concorsi per stabilizzare i dirigenti, cosa che non è stata mai fatta. I servizi alla persona hanno un APO, una posizione organizzativa, non un dirigente, quindi siamo anche sotto l'aspetto dirigenziale in forte ritardo. Quindi una di queste cose che l'amministrazione sta facendo è di mettersi in regola anche con le norme e quindi portare dirigenze capaci di lavorare con tranquillità o di confermare le nostre perché voi sapete tutti che ci sono dei meccanismi, la mobilità dei concorsi su cui noi non possiamo incidere. Sindaco, l'ultimissima, farete anche un incontro con il pubblico, con la cittadinanza per spiegare un po' qual è questo nuovo cronoprogramma? Sì, in questo periodo noi abbiamo elaborato un documento su cui siamo andati a vedere che cosa ha fatto ogni assessore che cosa ha in mente di fare e quindi presenteremo al Teatro Fenaroli penso entro una quindicina di giorni troveremo una data perché il Fenaroli è molto impegnato da altre manifestazioni per presentare alla città quello che abbiamo fatto e quello che faremo. È un nostro difetto, non sappiamo comunicare su questo avete ragione voi della stampa e quindi ho chiesto una deroga al mio neoassessore di Campli che effettivamente dobbiamo dotarci di professionisti in grado di poter esprimere quello che noi facciamo giornalmente. E dunque sono 12 consiglieri comunali delegati tra questi anche i due dissidenti Davide Caporale e Gabriele Di Bucchianico confluiti al gruppo misto e che avevano chiesto l'azzeramento della Giunta. Sono delegati rispettivamente alle contrade e all'ottimizzazione delle fonti energetiche alternative. Dunque rivediamo al prossimo servizio le deleghe degli assessori. Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo ha confermato per intero l'Aggiunta che aveva zerato lo scorso 15 gennaio riassegnando le deleghe ai sette assessori che erano in carica prima della crisi amministrativa. L'unica novità riguarda la delega dello sport che Pupillo ha tenuto per sé. Gli assessori confermati sono Pino Valente di Progetto Lanciano vice sindaco e assessore alla cultura, turismo e commercio Marcello Dovidio esterno all'istruzione politica della casa Antonio Di Naccio Progetto Lanciano ai lavori pubblici Valentino Di Campli Partito Democratico al bilancio Evandro Tascione lista civica Lanciano nel cuore alla sanità e ambiente Dora Bendotti lista civica Lanciano in comune ai servizi sociali Pasquale Sasso Partito Democratico all'urbanistica L'azzeramento è stato tecnico ha detto il sindaco Pupillo nel corso di una conferenza stampa Abbiamo fatto una verifica seria in queste due settimane che servirà senza dubbio a ripartire con slancio Ora, ha aggiunto Pupillo abbiamo davanti due anni e mezzo importanti dove raccoglieremo i frutti del lavoro portato avanti sin qui tra grandi difficoltà È di circa 200 mila euro il bottino di una rapina compiuta nella filiale della banca delle marche a Chietiscalo in località Madonna delle Piane Due uomini hanno mostrato tesserini spacciandosi per finanzieri e una volta entrati per farsi aprire Cassaforte Bancomat hanno minacciato con taglierini dipendenti poi li hanno chiusi in uno stanzino Hanno preso altro denaro dalle casse e sono fuggiti Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica e della squadra mobile della Questura di Chieti A Pescara oggi processo per l'omicidio Rigante il PM Campochiaro ha chiesto l'ergastolo per Ciarelli Ergastolo per Massimo Ciarelli pene da 16 anni e 4 mesi a 18 anni per gli altri 4 rom sotto accusa per l'omicidio di Domenico Rigante il 24enne ultra del Pescara ucciso con un colpo di pistola calibro 38 il 1 maggio 2012 a Pescara Sono le richieste di pena avanzate dal PM Salvatore Campochiaro nel processo per rito abbreviato in corso nel Tribunale del Capologo Adriatico oltre a Massimo Ciarelli sono imputati per il delitto il nipote Domenico e i cugini Antonio Luigi ed Angelo per i primi due il PM ha chiesto 17 anni e 4 mesi per gli altri rispettivamente 18 anni e 16 anni e 4 mesi il pubblico ministero non ha riconosciuto a nessuno le attenuanti mentre solo per Massimo Ciarelli è stata contestata la premeditazione prima delle richieste del PM in aula ha preso la parola proprio Massimo Ciarelli difeso dall'avvocato Carlo Taormina Ciarelli ha affermato di aver sparato accidentalmente durante la colluttazione dunque non voleva uccidere fuori dall'aula l'avvocato Taormina ha dichiarato come Massimo Ciarelli sia stato aggredito da oltre 20 persone in aula durante il processo erano presenti i familiari di Rigante anche oggi grande dispiegamento a Palazzo di Giustizia di Forze dell'Ordine la prossima udienza è stata fissata per il prossimo 3 febbraio e sarà dedicata alle arringhe difensive 3 fermi all'Aquila per il furto della reliquia di Papa Voitila ritrovata solo la parte in ferro la parte in ferro della reliquia con il sangue di Papa Voitila rubata dalla chiesa di San Pietro della Ienca è stata rinvenuta stamattina dalla squadra mobile dell'Aquila nella sede del Certa Collemaggio fermati tre tossicodipendenti poco più che diciottenni il pubblico ministero titolare dell'inchiesta David Mancini ha interrogato le persone fermate perché sospettato di aver rubato la reliquia con il sangue di Papa Giovanni Paolo II insieme con una croce nella notte tra sabato e domenica nella chiesa Le Falde del Gran Sasso luogo frequentato da Giovanni Paolo II durante il suo pontificato dopo il ritrovamento presso il CERT del capoluogo della parte in ferro che avvolge la reliquia di Papa Wuitila si sta cercando il pezzo di stoffa intriso di sangue del pontefice anche nelle abitazioni dei fermati gli artefici del furto pare non abbiano compreso il valore della reliquia gettando via il tessuto con il sangue del pontefice il fatto che i giovani fermati non siano in grado di indicare con precisione il posto dove si siano disfatti della reliquia rende più difficili le ricerche di polizia e carabinieri che hanno battuto sia la zona decente alla basilica di Colle Maggio dove vicino al CERT sono state ritrovate la parte in ferro della teca e una croce sia le abitazioni del progetto case di tempera dove risiede uno dei tre fermati dei tre giovani due hanno precedenti per reati contro il patrimonio e tutti secondo gli investigatori problemi con la droga Voltiamo decisamente pagina parliamo di agricoltura la patata del fucino ha ottenuto il riconoscimento di IGP identificazione geografica protetta Con la pubblica audizione alla presenza dei due funzionari del ministero delle politiche agricole si è concluso l'iter per l'approvazione del disciplinare per il riconoscimento della certificazione di qualità IGP identificazione geografica protetta della patata del fucino ora il disciplinare sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale per eventuali osservazioni poi passerà l'esame della commissione europea la certificazione con il marchio IGP può considerarsi tuttavia già una certezza per i produttori della marsica dopo 30 anni di attesa un traguardo importante per tutto l'Abruzzo spiega l'assessore regionale politiche agricole Mauro Febbo assolutamente sì perché il fucino rappresenta il 25% del prodotto interno lordo in tema agricolo ha un'occupazione di oltre 9.000 dipendenti quindi credo che sia importante questo riconoscimento per un prodotto per cui l'Abruzzo viene spesso identificato la certificazione IGP darà grande slancio alla produzione ne è convinto il presidente dell'associazione marsicana produttori patate Rodolfo Di Pasquale noi non siamo conosciuti né in Italia né in Europa ma con questo marchio finalmente saremmo conosciuti e il consumo sarà superiore e questo già è tanto per i produttori del fucino sulla stessa linea l'assessore agricoltura del comune di Avezzano Francesco Paciotti in qualche maniera dobbiamo aiutare questo prodotto ad innalzare le proprie potenzialità a livello nazionale e estero la certificazione IGP per la patata del fucino può essere considerata come una consacrazione per questo importante prodotto della terra marsicana e questo è il pensiero di Stefano Fabrizi direttore di Confagricoltura L'Aquila perché questo è l'unico modo per poter tutelare un prodotto che era conosciuto a livello nazionale come patata del fucino ma che non poteva essere adeguatamente tutelato la pagina del calcio serie B tutta la dirigenza della Virtus è a Milano per le ultime operazioni di calcio mercato calcio mercato che potrebbe riservare sorprese per la Virtus che ha mosso tutto lo stato maggiore per le ultime operazioni milanesi il che potrebbe rappresentare un segnale ben preciso stamattina hanno infatti raggiunto il capologo Lombardo la presidentessa Valentina Maio il vice Guglielmo il DS Leone il segretario generale Claudio Di Menno di Bucchianico e in più il direttore tecnico Roberto D'Aversa come anticipato ieri è ormai arrivata a conclusione positiva l'operazione con la Juventus che ha chiesto la metà dell'attaccante di prospettiva Mame Baba Tiam che resterà che resterà però in rosso nero fino a giugno la Virtus ottiene dunque soldi dalla vecchia signora e il portiere rumeno Branescu titolare dell'Under 21 attualmente è la Juve Stabia ovvio che uno tra amabile e aridità e con le valigie pronte bell'affare visto che Tiam è stato ingaggiato a parametro zero e che dopo qualche mese la società ha già valorizzato con soldi pesanti in cassa e un portiere giovane interessante in rosso nero ore calde anche per un acquisto e una conseguente cessione Ante Rebic dalla Fiorentina attaccante croato classe 93 è stato chiesto ufficialmente ai Viola che gradirebbero valorizzarlo in serie B in partenza Leonardo Gatto che a questo punto diventerebbe un surplus sulle sue tracce latina o cittadella difficile che Falcinelli sia ceduto a Spezia o Varese ma in queste ore tutto potrà ancora accadere e ieri il rosso nero positivo trasmissione ufficiale Virtus tutte queste anticipazioni erano state già fornite ai telespettatori presenti Vittorio Spadano lo sportivo Giancarlo Micolucci e il difensore rosso nero Stefano Ferrario autore di un'ottima prestazione contro il Brescia e anche in tv intanto la squadra partirà domattina da Roma destinazione Reggio Calabria e la partita sarà arbitrata dal signor Di Bello di Brindisi Sponda Regina sentiamo Maicon Da Silva che spiega bene quali sono le intenzioni dei Granata dopo il successo di Bari Bari è stato importante però ora sarà ancora più importante la partita contro il Lanciano perché dobbiamo cercare di lanciare un segnale positivo a noi stessi e anche agli altri per fargli vedere che la Regina c'è ho saputo che anche la società ha fatto una certa promozione con i biglietti speriamo che i tifosi i nostri tifosi vengano allo stadio e ci sostengono per questa partita che è importantissima Ed ora Pescara ha trovato il rinforzo a centrocampo in arrivo dal Chievo Roberto Guana Individuato il rinforzo a centrocampo il Pescara stringe per Guana del Chievo lunga carriera quella di Roberto Guana classe 81 sempre tra serie A e serie B brava centrocampo in posizione centrale sia come interditore che come mediano di impostazione davanti alla difesa le parti sono d'accordo su tutto e la ratifica dell'operazione è indirittura d'arrivo ufficialmente sfumato invece l'acquisto di Ruben Oliveira il centrocampista Viola si è legato al Brescia di Bergodi altra notizia ufficiale per il reparto avanzato in attesa di cedere finalmente Vucusic avanza l'ipotesi relativa a Federico Gerardi della Regina classe 87 prima punta forte fisicamente nel gioco aereo giocatore dotato di buona tecnica individuale abile spesso di sponda per far salire la squadra terminata la sessione di calciomercato invernale si discuterà sui rinnovi Balzano è vicino alla firma di un biennale e la fumata bianca appare solo formalità e si pensa anche alla sfida col trapani col classico conto alla rovescia Balzano incontriamo una squadra quindi sappiamo è una buona squadra gioca bene a calcio quindi con la testa la fronti in un modo particolare sei più attento perché è una squadra pericolosa noi dobbiamo fare la nostra partita e sicuramente saranno più preoccupati loro che noi questa è una grande cosa perché ci sono passata anch'io quando vieni fuori e vinci un campionato hai voglia di dimostrare quello che vale quindi hanno una grande forza e questo è molto pericoloso per noi dobbiamo avere più fame di loro dobbiamo essere più cattivi di loro su tutti i fronti e sicuramente poi facendo questo vengono fuori le qualità e speriamo vada bene il Tg Max termina qui vi ricordo che i Tg programmi e servizi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it grazie per l'attenzione arrivederci grazie a tutti